Alla vista della polizia ha cercato di lanciarsi dalla finestra per fuggire. Tutto è inutile per uno spacciatore tunisino perché è stato fermato dagli agenti della questura. È successo a Villanova di Camposampiero, nell'Alta Padovana. Nei guai un 47enne di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio, è già pregiudicato sempre per reati legati alla droga. Gli agenti tenevano monitorato lo stabile in cui l'uomo vendeva la droga. Durante un appostamento lo hanno visto scambiare un involucro con un cliente. Sono partiti quindi i controlli. L'uomo ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dagli agenti della questura. È esibito una carta d'identità portoghese, falsa. Il 47enne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima. Su di lui pendeva però anche un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Venezia un anno fa. L'uomo è stato quindi portato in carcere.